Pronto? Sì, chi sei? Non ti sento. Pronto? Sì, ma chi sei? Vuoi parlare con? Paola. Sì, chi sei? Non ti sento. Pronto? Sì, ma chi sei? Vuoi parlare con? Sì, vuoi parlare con? Gemma, vuoi passarmi Valentina? Che mi passa Federica, quella strana sua amica. Ciao, Federica, sei a casa di Paola. Ciao, Paola, vuoi passarmi? Aspetta, ma chi c'è? Lì, con voi. Aspetta, ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Aspetta, ma chi c'è? Lì, con voi. Aspetta, ma chi c'è? Lì? C'è Sara, c'è Giulia, c'è Claudia, c'è Gemma, c'è anche Valentina, insieme a Federica, a casa di Paola, a casa di Paola, a casa di Paola. Aspetta, ma chi c'è? Non volevo dirti che io sono pazza di te. Volevo solo dirti che ti amo ancora. Ti hai dato quello che cercavo dentro me. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. Volevo dirti che io sono pazza di te. Volevo solo dirti che ti amo ancora. Ti hai dato quello che cercavo dentro me. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. Ciao, sono io. Puoi passarmi? Ciao, Sara, come stai? C'è lì con te Giulia. Ciao Giulia, c'è accanto a te Claudia. Ciao, Claudia. Puoi passarmi anche Gemma? Ciao Gemma. Ma Valentina che mi passa Federica, quella strana sua amica. Ciao Federica. Sei a casa di Paola. Ciao Paola. Puoi passarmi? Puoi passarmi? Puoi passarmi? Non volevo dirti che io sono pazza di te. Volevo solo dirti che ti amo ancora. Mi hai dato quello che cercavo dentro me. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. Volevo dirti che io sono pazza di te. Volevo solo dirti che ti amo ancora. Mi hai dato quello che cercavo dentro me. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. Pronto? Sì. Chi sei? Non ti sento. Pronto? Sì. Ma chi sei? Vuoi parlare con? Pronto? Sì. Chi sei? Non ti sento. Pronto? Sì. Ma chi sei? Vuoi parlare con? Vuoi parlare con? Vuoi parlare con? Vuoi parlare con?